Siamo con Ruggero Carbonari, presidente della Polisportiva Schittim al Pecimbra. Finalmente è arrivato questo evento, due piste che coinvolgono il territorio. Com'è la situazione neve e organizzativa? La situazione neve è ancora buona. Speriamo in questo weekend che venga un po' di freddo, che allora sistemiamo quelle cosette che mancano. Invece noi sulla parte tecnica siamo pronti e con l'apporto e la forza di questo sodalizio di quattro associazioni sportive pensiamo di riuscire a organizzare un bel evento che dia soddisfazione a tutti e soprattutto ai bambini, che è quello il motivo importante che ci accomuna. Le piste sono due coinvolte? Sì, le piste sono due. è la salizona a fondo grande, che quella la conoscono in tutto il mondo ormai per le gare che si sono svolte. Abbiamo proposto la pista di Vezena, che è un'inedita, che è veramente sull'altipiano delle Vezene, che collega l'altipiano dei cimri ad Asiago. è veramente un bel paesaggio che secondo me possiamo propagandare veramente come pista. Forse un altro anno addirittura verrà realizzata una pista di ski cross permanente. permanente.